Partiamo dal bilancio. È stato un Consiglio Comunale piuttosto duro, franco, aspro, ma utile. Perché in questa città comunque le forze politiche si confrontano in Consiglio Comunale. Non stava scritto da nessuna parte che si dovesse fare una monotematica su un deliberato della Corte dei Conti e su una manovra economica che il Parlamento sta scrivendo in queste ore. L'ho voluto io fortemente, insieme alle forze politiche, l'opposizione ci teneva molto, anche la maggioranza. Io sono stato subito favorevole, quindi credo che questo è importante. Ovviamente c'è una diversità di veduta molto forte perché le opposizioni unite addebitano all'amministrazione la grave crisi economico-finanziaria. Noi facciamo un ragionamento completamente diverso, come ho potuto dire in aula, come ha detto anche l'assessore Panini e come poi emerge dalla mozione che la maggioranza ha approvato. Adesso però credo, per essere sintetici, che mentre parlare dell'amministrazione è una cosa che si fa ogni giorno, no? Ogni giorno si discute che cosa ha fatto e non ha fatto l'amministrazione e di questo discuteremo democraticamente nei prossimi mesi. Oggi io vorrei però restituire un po' la palla in un altro campo istituzionale e politico, sinceramente. Adesso è il momento di capire, domani, dopodomani, quindi non fra mesi o settimane, che cosa intendono le forze parlamentari e il governo della Repubblica italiana fare nei confronti non di Luigi De Magistris o della giunta comunale di Napoli e la loro maggioranza, che cosa intendono fare per la messa in sicurezza complessiva dei territori del nostro paese. Cioè in discussione una proposta elaborata da Lanci che tiene dentro istanze, esigenze e proposte di tutti i sindaci d'Italia. Certo ci sono alcune norme più utili a Napoli, certo più norme utili a Milano, altre per i piccoli comuni, altre per Torino. C'è un paese unito nelle sue differenze attraverso i sindaci. Adesso ne attendiamo risposte, altrimenti la mettiamo solamente in polemiche politiche sterili, lì dove ognuno legittimamente, come è in politica e in democrazia, sostiene le proprie opinioni, ma noi rischiamo che tra qualche giorno, se il Parlamento e il Governo non fanno nulla, cioè che questo paese non ha fatto dei passi in avanti. Quindi oggi la domanda più impellente la poniamo noi alle forze parlamentari e al Governo, e quindi l'ho voluta porre anche in particolare alle deputate presenti in Aula. E come ho detto nel mio discorso, io attendo con fiducia, seppur, devo dire, è una pazienza che comincia ad avere anche un limite non più superabile. Noi dobbiamo affrontare in questi giorni questioni incredibili, come il trasporto, come giustamente la Corte dei Conti ci impone dei ritmi, insomma, le conoscete, i blocchi normativi e i vincoli finanziari. Quindi adesso le risposte devono venire, devono venire forte e chiare, e soprattutto non ci piace questo ragionamento un po' curioso, cioè di dire, vabbè, insomma, qualcosina arriverà, ma poi sono bricioline, voi comunque non ce la fate comunque. Cioè il pacchetto ANCI, è là che apriremo, insomma, che tipo di norme vogliono approvare. Lo sapremo in settimana, da come ho capito, quindi bisogna solamente attendere. Ribadisco e se è possibile cerco anche di chiarire, quando parliamo di norme nell'interesse dei territori, e perché i sindaci attraverso l'ANCI e quindi davanti al Parlamento e al Governo sono altoparlanti alla fine dei bisogni e cercano di realizzare i diritti che sono offuscati e non attuati nei territori da sud al nord del nostro Paese. Se non arrivano norme che non sono denari, ma sono attenuazione e o eliminazione di blocchi normativi e vincoli finanziari, quando io parlo di tenuta democratica, di rischio sociale, di frantumazione della coesione e di esplosione sociale, perché se tu in alcuni territori non sei più in grado di garantire interventi sul lavoro, sulle politiche sociali, sui bisogni, sui servizi essenziali, la gente, lo vedete fare i giornalisti, lo vedete in mezzo alla strada, la gente è esasperata, ma non vi credete che è un tema solo di Napoli, è un tema di tutto il Paese. Allora siccome questo chiedono i sindaci, di poter continuare a svolgere quella funzione di mediazione sociale, anche una funzione di assumersi talvolta delle responsabilità senza nemmeno averne i poteri, ormai i sindaci vengono chiamati in causa per tutto, anche se c'è una sparatoria per strada, si corre prima dal sindaco e poi si va dal questore, ed è una cosa come dire che è nell'ordine, tra virgolette, naturale delle cose, i sindaci stanno là, rispondono, scappano, però adesso io devo, ho l'obbligo di esprimere questa preoccupazione, del resto l'ho fatto in Consiglio Comunale, con i toni, vabbè, chiaramente del Consiglio Comunale, con altri toni, l'ho detto anche al Presidente della Repubblica l'altro giorno, io ormai non è che mi devo candidare, faccio da sei anni e mezzo il sindaco, faccio il Vice Presidente e l'Anci, sono uno di quelli che ha maggiormente contribuito insieme ad altri alla scrittura di queste norme, ho incontrato tutte le forze parlamentari, tutte le forze conegnative, il Presidente del Consiglio, io devo esprimere preoccupazioni, io sono preoccupato che se non arriva una risposta, non è la questione politica di un'amministrazione o un'altra, come lo devo dire? Noi politicamente se ci fanno un torto macroscopico ne guadagniamo sotto il profilo del consenso personale, perché la mettiamo in politica e di fronte a un'ingiustizia, la storia ci ha insegnato che queste lotte le sappiamo fare perfettamente, io sono preoccupato perché se non si riescono a garantire i servizi e garantire i diritti, la gente che esplode e se questo Paese che già ha una sua solidità molto fragile in questo momento storico, iniziano a esplodere anche i territori, io ho il dovere di dirle queste cose, altrimenti, ma del resto non le dico solo io, le dice De Caro, le dice Bianco, lo dice Lappennino, lo dice Accorinti, lo dicono tutti i sindaci di cui in questo periodo c'è una coesione davvero straordinaria, allora quando invece vedi un'immagine di chi la vuole mettere in politica per distruggere l'avversario, correndo il rischio di far fallire una città, è un'immagine, mettiamola in questo modo e chiudo, completamente diversa rispetto ai sindaci, i sindaci sono uniti nella loro diversità e fanno una battaglia comune e facciamo in modo che non ci dividono, quando certe volte ascolti degli argomenti di un avversario politico ti rendi conto che non c'è affatto questa volontà di coesione pur nelle diversità, ma ci sono le battaglie politiche, quelle tradizionali e anche un po' squallide, su cui siamo stati abituati in questi anni. Indeco, ma tutto questo credo di poterlo dire, lo avete richiarito con la gaffagna pochi minuti fa all'Atre, nel senso che ne avete discusso penso, poi dimmi tu e voglio dirti, appunto, qual era il... Ma io l'ho detto anche forse, l'ho voluto, Luigi De Magistris, io sono sempre lo stesso e sono una persona che sa apprezzare quando vede comportamenti istituzionalmente e politicamente di apertura nei confronti alle istanze dei sindaci. Quindi io so tenere distinto l'attacco che è stato fatto oggi, la mozione che è impresentabile, se uno si presenta con quella mozione come vuoi creare una mozione unitaria, diversamente so tenere distinto quello che mi par di notare facendo gli incontri in Parlamento dove la Carfagna l'ho sentita oggi in Consiglio Comunale e lei come sempre ha fatto non ci ha risparmiato nulla e anche quando l'ho incontrata a Roma lei ha detto dipendentemente dalle nostre posizioni politiche sono diverse, io dico meno male che sono diverse perché abbiamo posizioni politiche completamente diverse rispetto a quella di Carfagna ma non ho difficoltà a dire che ci siamo riusciti a confrontare entrando nel dettaglio e non mi è parso di aver percepito un atteggiamento, tra virgolette, passatemi il termine, di presa in giro cioè quasi dire va bene lo dobbiamo ascoltare, ascoltiamo i sindaci tanto per ascoltare. Mi è parso di capire che c'è un impegno effettivo. Tra qualche giorno sapremo, poi ripeto sarà tutto chiaro perché tra qualche giorno, non so se avete colto un passaggio del mio intervento, la prossima volta che verremo in Consiglio, io esprimerò gratitudine nei confronti delle forze parlamentarie e del governo qualora dovessero arrivare e la vedremo, cioè a seconda di come voti gli emendamenti a seconda di quello che proponi in relazione alla forchetta, ti possono pure far vedere che ti approvano una norma tanto per far vedere che te ne approvano e altre nove te le bocciano e quella norma non serve a niente cioè voglio dire, stiamo nella partita e io devo essere sincero, questo ho voluto dire, siccome io non ho fatto nomi e cognomi nel mio intervento, in quella chiacchierata che voi evidentemente avete colto e siamo messi un po' a chiacchierare è stata una chiacchierata cortese perché io sono tornato quel giorno da Roma evidenziando apprezzamento per il modo con cui siamo stati ascoltati. Ormai abbiamo l'esperienza che ci fa capire quando qualcuno ti ascolta tanto per fare il compitino o quando qualcuno ti ascolta perché evidentemente sta ritenendo fondate le ragioni dei sindaci e attenzione che a voi non sfugge che nei sindaci sono tutti i sindaci non è qua pare che stiamo parlando di Napoli, l'unica città forse dove si è tenuto un consiglio comunale su questi temi ma se voi discutete di queste cose e vi chiamate la sindaca di Torino o piuttosto il sindaco di Milano o piuttosto il sindaco di Catania vedrete che ci sarà lo stesso ragionamento che ho fatto io e anche nell'incontro che ho fatto col Presidente della Repubblica e anche oggi io parlo sempre rendendomi pur nelle differenze portavoce delle istanze di tutti i sindaci senza mai svolgere un discorso che riguarda esclusivamente la nostra città fermo restando e chiudo che alcune norme sono sicuramente importanti per Napoli e non servono a nulla per Milano come ci sono alcune norme che a Napoli non servono a niente e sono decisive per far approvare il bilancio in città metropolitana a sala è una cosa che ho molto apprezzato il Presidente De Caro in uno dei suoi ultimi incontri a Roma col governo non provate a dividere i sindaci cioè non provate in questa manovra a dire sì noi facciamo, pure oggi ho sentito qualche intervento di questo sì noi facciamo, però tanto Napoli comunque deve fare la fine che deve fare attenzione, il tifo contrario noi sappiamo, lo vedremo tra qualche giorno se è un tifo solo di sensazione o è un tifo che si traduce nelle norme